Verità e giustizia per Martina Rossi, questa è la scritta negli stressoni affissi ieri a Genova in occasione della prima udienza nel processo costola di quello principale, finito per adesso con l'assoluzione in appello di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, mentre in primo grado erano stati condannati a sei anni, erano accusati di tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di altro reato. La Cassazione si pronuncerà il prossimo 21 gennaio, ma intanto ieri a Genova ha preso avvio un altro procedimento che vede seduti sul banco degli imputati Enrico D'Antonio e Federico Bassetti, entrambi assenti, accusati di falsa testimonianza per il caso della giovane Ligure morta precipitando da un balcone mentre si trovava in vacanza a Palma di Mallorca. I due aretini, infatti, all'alba del 3 agosto 2011 erano nello stesso hotel dove Martina Rossi trovò la morte, erano in compagnia delle amiche della studentessa genovese in un'altra stanza. Secondo i magistrati, i due ragazzi di Castiglion Fibocchi avrebbero tentato di coprire gli amici Albertoni e Vanneschi. Secondo la procura, infatti, rilasciarono dichiarazioni non veritiere agli inquirenti quando furono sentiti come persone informate sui fatti. Il processo adesso è stato rinviato al prossimo 15 marzo. Fuori dall'aula, infine, in occasione dell'avvio del processo, una manifestazione pacifica ed ordinata a sostegno dei genitori della studentessa Ligure, che si sono costituiti per te civile, un'iniziativa promossa dal gruppo Facebook Vogliamo Verità e Giustizia per Martina Rossi e dal collettivo Autonomi Portuali.